Ciao amici e benvenuti a Andrew's Channel! In questo speciale di carnevale vi presentiamo la nostra orbite Claudia. Ciao ragazzi, ho realizzato questo trucco sui miei due amici, ispirandomi alla maschera di Arlecchino. Su metà volta ho realizzato il suo costume, mentre sull'altra metà la sua vera e propria maschera. Che dire, un trucco semplice ma d'effetto. Vi lasciamo alle immagini. Ho realizzato questo trucco utilizzando inizialmente la matita bianca o color burro per tracciare le forme che vorrò poi andare a colorare. Dopodichè andremo a riempire con i colori. Io ho utilizzato acqua color e super color, ma per chi non le possedesse può andare a comprare in un qualsiasi negozio di giocattoli o di cosmetica, matite colorate e cialdine per trucchi di Halloween bar carnevale. Dopodichè con un eyeliner nero o con una semplicissima matita nera, andiamo a contornare le forme dei nostri rombi colorati. Ho applicato dopo di che dei brillantini. Sull'altra metà del viso invece ho applicato acqua color bianco e nero per riprodurre la maschera di Arlettino. Come potete vedere il trucco è semplice e il risultato è garantito. Non vi resta che provare e condividere con noi il risultato. Se vi è piaciuto il video condividete e iscrivetevi al canale. Alla prossima e ciao! 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 Ciao!